Ho un risveglio molto tranquillo, leggiato, oserei dire. Hai dormito bene queste tre ore? Due ore e mezza in realtà. C'è miseria. Va bene, va bene, va bene. Siamo marinai, siamo marinai e difatti salpiamo, salpiamo le ancore. C'è miseria, mi sono svegliato con un brufolo enorme. E' già capace di farlo, un greco. Niente, per adesso non piove ragazzi, le previsioni sono orribili. In realtà, appena usciamo da qua, si vede subito la vita in basso. Sì, sì, sì. Ho fatto colazione, qualcosina? Sì, un po' di biscottini e caffettino. Ci sta. Ci sta. E niente. E niente ragazzi, adesso mi vado a fare un succhetto, qualcosa. Questo è il punto che tutti noi di solito diamo di più. Andare a fare carburante. E qua. Non so per chi di voi è andato in barca, ma questo è sempre un fracasso di soldi. C'è proprio. Ragazzi, allora, che ore sono? Le 12.30 saranno. Le 12.30. 12.58. 12.58. Sono appena uscito dalla cabina, tutto il giorno che sto male. Effettivamente c'è brutto tempo. Piove. Non il massimo, non il massimo. Però non c'è più nulla. Ho sboccato ragazzi l'anima. Non ce la faccio più. Perché c'è l'orario sbagliato qua? Perché c'è l'orario sbagliato qua? Vabbè, adesso comunque dovrebbe più vigilare ancora per un pochino. Anzi, piovere di più dopo anche, come previsioni. E poi forse vediamo un bagnetto, drone e quant'altro. Perché peraltro la zona è anche molto carina. Cioè se ci fosse un po' di sole qua sarebbe perfetto. Solo che no. Partitellina a carte. Partini. Ma cos'è che si gioca allora? Eh, bisca penso. Bisca, bisca. Signori, oggi è tutto il giorno chiuso, morto, secchito. Primo uscito due secondi ma il vento da pioggia mi ha fatto sboccare ancora. Ciao! Non si vede? Come non si vede? Ciao! Aspetta, Kiko. Grazie. Parlaci. Che caso. Parlaci nella tua vita. Sono bagnato in questo momento la felice. Siamo tutti mutande, ragazzi. No, no, vuole tu una bella donna. Davvero? Sì, la pioggia. Per ripudio, per i disegni che non posso. Bellissima esperienza che mi son perso per tre quarti. Ok, io sto giuro che sono troppo... Ma infatti ti ha come stupido l'esperienza? Eh, ci sono salito, dopo un po' veniva a sboccare, sono sceso e pregato. Perché che balli. Sul letto, sul cuscino della Nicole. Quindi io sto a studiare un pochino. Sul letto. No, no, in bagno... Io le ho giusto perché per la sera lavorare. Cavolo! Anche al cordino. Gli stanno? No, non c'è il cordino. Sì, vabbè, vabbè. Questo è che sta bene. Eh, cazzi, non ci ho pensato, ma era molto... Ecco, quindi tra un po' andiamo a fare la doccia, probabilmente... Io ho solo pantaloni cordi, non ho pantaloni lunghi. Cioè, Giulio... Giulio... Ci sapevamo che avrebbe diluviato e... Ma davvero, non ti morder, ragazzi. Cioè... La sua filosofia la mantiene. Sì, abbiamo scoperto, Nicole... È tipo qua sotto c'è un portendone. Guarda, ti metti, quando arriva un caraccio a Madonna. Però c'è un po' caldo comunque qua. Sì, fa tanto caldo. Adesso può riscaldare il tutto, poi domani c'è... Sì, sì. Domani, ragazzi, bagno. Sì, c'è. Domani, bagno. Anche stasera? Sì. Doccia. Oh, ora sì che si è detto. No, 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 aspetta. Eh, secondo me, pericchio questo riscaldamento... Tra bagnata questa giacca. Mmm, è il mio capo. Scusi. Ha bagnato? Ho detto una bugia, non ho il carico. Allora, con il riscaldamento si dovrebbe asciugare con calma tutto quanto. Tra un po' ci mettiamo tra docce e cucina al risotto e tutte cose. Io la mia l'ho messa sul... Mamma mia, ho proprio lo costante. Guardate qua che roba, all'occhio morto, nero. Vabbè. E niente, così. Comunque ragazzi, questa è la marina. Non mi ricordo neanche più in che molo, piuttosto che... Forse c'è scritto qua. Marciana, esatto. Ecco la marciana. E niente, qua ci sono le docce. Tanto un po' piano. Allora, fammi una doccia ora, solo che mi sono dimenticato. Il sapone. E... In barca. Quelli mi tocca il tono a in barca. Sua terraferma, ragazzi, top. Mi sto... Stavo morendo prima in barca. Non vedo l'ora di... Mangiarmi sto risotto. Avere un pochino di entusiasmo, perché... Ora intanto mi sono lavato i denti, perché tutto il giorno che vomito. Mamma mia, che schifo. Che poi, dico, cazzo, vomitassi. Perché, che ne so, mi sono ubriacato. Dico, vabbè, ci sta. Vado, so... So che è colpa mia. Ma qua è proprio... Non c'entro niente io. È il mare fastidioso. Doccia fatta. Ora andiamo a mangiare. Allora, signori. Come vi dicevo, il risotto stasera. E purtroppo la signorina qua ha deciso di non metterci... Il gorgonzola. E quindi ho un piatto immeritatamente grosso. Ho fame, Davide! Veloce! Parlaci del... Del chicchi di riso. Il chicco di riso? Che hai appena cucinato. Il chicco di riso l'ho coltivato personalmente in Islanda. Ma è la varietà del riso? Bulgara. Bulgara in Islanda. In Islanda. Perché, grazie al calore del deserto islandese, riesce ad avere un'umidità maggiore. Abbiamo fame noi. Taglia corto. Taglia corto? Eh, devo perdere tempo finché cucina. No, ci siamo, ragazzi. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Dovete darmi i piatti? Ne apro già due. Ne apro già due. Ma lì c'è, si è un po' a camera. Si crede che il primo navigatore che fece la circunnavigazione del globo sia Ferdinando Magellano. In realtà, la spedizione era intitolata lui, ma lui morì nel sud-est asiatico, no, in Indonesia, mi sembra. E colui che riuscì a terminare il giro fu un certo Antonio Pigafetta, di origini, mi sembra, vicentine. Non mi ricordo. Comunque è uno mal cagato, che nessuno conosce. Era un veneto. Mi raccomando, ragazzi. E quindi, ecco, seguiteci per altre notizie di cui nessuno ha mai richiesto il bisogno di sapere. Mamma mia, ragazzi. Siamo a mezzanotte. Porca puttana, appena messo i piedi in una pozzangra. Vabbè, diciamo. Siamo a mezzanotte, mi sto facendo questa ultima passeggiatina serale, anche perché oggi, come avete constatato, non ho fatto assolutamente niente, se non stare male. Quel risotto mi ha dato un pochino la mano per, insomma, andare a sanare tutte le problematiche, ma in verità avevo voglia di altro. Cioè, mi sarebbe piaciuto stare più tempo in barca. Domani non dovrebbe piovere, dovrebbe esserci il soletto. E quindi potremmo anche fare il bagno, in teoria, speriamo. Che spreco. Cavo, poi abbiamo comprato un sacco da bere, non ho bevuto assolutamente niente. Un tè, un'acqua... Bah, non spreco. Comunque, ragazzi, a parte questa luce da illuminato, il video di oggi finisce qui, anche questo abbastanza corto, non c'è molto da dire. Ho giocato un po' in scatola, ho chiacchierato, ho giornate in amicizia, così in uno spazio chiuso. Quindi se ti trovi bene con le persone ti diverti un sacco, se ti trovi male muori, sempre così. Ragazzi, gli altri dopo escono, io e qualcun altro invece rimaniamo a dormire perché ho necessità di recuperare sonno. E quindi noi ci vediamo nel video di domani, sempre alle 11, mi raccomando, mettete un piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Mi raccomando, numerosi ragazzi, voi avete questo potere di far crescere il mio canale. E quindi facciamolo, dai. Grazie.